Gli agricoltori della Valtidone si dicono allo stremo, esasperati dalle continue incursioni di cinghiali che di notte prendono di mire i campi dove si è appena seminato. Negli appezzamenti tra Borgonovo e Sarmato l'agricoltore Marco Michelotti è costretto a fare ronde notturne per sorvegliare i campi dove è stato piantato il mais da seme, riprodotto cioè per una multinazionale che il prossimo anno, cinghiali permettendo, dovrebbe rivenderlo ad altri agricoltori. Peccato che le continue incursioni notturne, oltre a distruggere il terreno, rischino di a zerare i ricavi e di far allontanare le multinazionali. Prendono il seme che dopo devo rimettere manualmente perché con la seminatrice è impossibile. L'ATC si dovrebbe impegnare a mettere 3-4 persone a fare la ronda di notte e tenerli lontani se non li vogliono abbattere o fare la cattura. La multinazionale, anche lei, non ha il seme il prossimo anno per vendere agli altri agricoltori. Gli anni passati c'era più tolleranza. Passavano, andavano, un danno come quest'anno non è mai stato visto. La storia di Borgonovo è emblematica di una realtà che interessa tanti agricoltori. Alcuni di loro sono finiti al centro di polemiche per l'utilizzo di dissuasori notturni che disturbano il sonno delle persone. Le associazioni di categoria ne prendono però le difese, chiedendo piani di abbattimento in grado di ripristinare una situazione definita non più sostenibile. Grazie. Grazie. Grazie.